Un'autentica strage sull'asfalto, quattro morte e due feriti, questo è il tragico bilancio dell'incidente di ieri sera alle porte di Scoglitti in Contrada Anguilla, a perdere la vita Salvatore Schiaccianoce, 37 anni, la moglie Paolo Sampieto di 29 e il loro figlioletto di 8 anni, Joseph, rimasta ferita invece la piccola Desiree di 5 anni, ha subito un intervento chirurgico in nottata, in ortopedia, ma è fuori pericolo, l'altra vittima è un giovane di 24 anni, Valerio Di Pietro, che viaggiava sull'altra autovettura in compagnia del conducente, un consigliere di quartiere di Scoglitti, Giorgio Cascini, di 27 anni è rimasto ferito, sul posto dello spaventoso incidente, vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile per rilevare la dinamica del sinistro e regolamentare il traffico rimasto per ore bloccato, le scene che si sono presentate subito agli occhi dei primi soccorritori sono state raccapriccianti, col motore della lancia completamente staccato dalla carrozzeria e la BMW capovolta, sull'asfalto vari oggetti personali come gli zainetti dei due bambini, Joseph e Desiree, quest'ultima unica superstite dalla famiglia Schiaccianoce e che doveva vivere col dolore purtroppo di aver perso genitore e fratellini in tenera età. La notizia ha fatto naturalmente subito il giro della città, suscitando sentimenti di dolore e tristezza nella comunità vittoriesa.